Siamo di fronte alla nuova sede dell'USB, prima eravate ospiti, possiamo dire, del centro politico Sandro Santa Croce e adesso invece sono cresciuti gli iscritti. Avete scelto una sede da soli qui in via Guido II. Sì, è una sede più funzionale, soprattutto per accogliere le persone che hanno difficoltà e quindi si rivolgono al sindacato e ci sentiamo pronti per accogliere tutte le istanze delle persone che hanno delle difficoltà. Io sono l'avvocato Stefania De Nicolaes, consulente dell'USB, sono anche rappresentante dell'Asia USB, che è la sezione che si occupa degli inquilini e lo sportello è aperto generalmente due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 17. Abbiamo un CAF, quindi un centro di assistenza fiscale, e un servizio di padronato per le istanze generiche. In più, io seguo personalmente la parte relativa ai migranti e alla situazione degli inquilini, quindi per le case, generalmente case popolari. Migranti, inquilini, problemi sociali, sono tutti temi molto delicati. È cresciuta molto la domanda di assistenza per questi tipi di categorie. Sì, è cresciuta la domanda, ma soprattutto è cresciuta la risposta. Un segnale importante è l'apertura di una nuova sede sindacale, perché significa che costruiamo degli strumenti per stare al fianco dei cittadini. In questo momento di grave crisi economica, purtroppo le fasce di povertà tendono ad aumentare, persone che non hanno mai avuto bisogno del sindacato bussano le nostre porte per avere tutere e una difesa, e quindi è importante che oggi a Teramo apra una nuova sede dell'USB, significa che stiamo svolgendo la nostra funzione sociale, che è quella di stare vicino alle persone che soffrono.